Per una piccola impresa che fino a 15 anni fa possedeva un organico di una ventina di persone, aderire a schemi volontari secondo le norme ISO ha rappresentato il punto di partenza per avviare un percorso di implementazione delle norme di buona gestione interna, accrescendo la consapevolezza e la responsabilità delle mansioni, definendo protocolli operativi chiari per i servizi che si sono differenziati, ottimizzando i processi interni di interrelazione tra le aree di competenza, aumentando il controllo dell'andamento di produttività ed infine maturando un background aziendale oggi condiviso per un organico che ha superato 50 dipendenti collocandoci come una media impresa focalizzata allo sviluppo e all'innovazione secondo le esigenze del mercato nel rispetto delle normative.